La giornata in prigione inizia così in Ohio. E questa è una delle carceri più dure di cui dispone lo Stato. Girati, stendi le braccia. Qui i prigionieri devono stare in riga o pagarne le conseguenze. Per un anno National Geographic ha seguito le vite dei detenuti e delle loro guardie nello Stato dell'Ohio. È un sistema deciso a rendere i detenuti persone migliori, pieno di criminali che potrebbero diventare persino peggiori. Sparisci! È un anno pieno di momenti difficili. I Guardiani dell'Inferno.